Raga ma le DS che fino hanno fatto? Eh raga ce n'è rimasta solo una, la DS3 Coupé Ecco qua gli interni della DS3 Coupé Ragazzi eccomi qui con la DS3 Coupé 1.16 cilindrata con 100 cavalli Questa è la versione con cambio manuale, motore diesel di ultima generazione Con funzione mirror screen, sensori di parcheggio anteriori e posteriori Insomma c'è tutto quello che vi serve La trovate aziendale con 22.000 km Davvero un'ottima occasione Poi con questo colore blu zaffiro, il tetto bianco Veramente troppo troppo bella Ve la consiglio davvero alla grande Se volete avere più dettagli vi basta andare su rattiauto.com Il link lo trovate in descrizione Queste e tantissime altre auto solo da Ratti Auto Venite a trovarci presto, ciao!